benvenuti bonzi in un video notturno perchè è notte mentre lo sto registrando come vedete siamo pochissimi e ci stanno quei simpaticoni di George e Matti che mi tirano frecce e a me sta cosa non stava niente bene allora ho deciso che mi prenderò delle canne da zucchero e delle patate, patate intendo carote mi farò delle pozze di indivisibilità e andremo a combattere con questi furbozzi da invisibili perchè è così che si fa la guerra, si vince facile voilà, andiamo su nella stanza segreta del pozionaio mistico quindi questo sarà un video, come si dice, sotto copertura vedete i nomi no? quindi loro mi vedranno che sto a salire qua sopra magari staranno a salire sulla statua dell'uccello bonzo dammi le acque, 1, 2, 3 1, 2, 3, mettile qua e ci dobbiamo mettere netherwart e scoso di ragno schifoso ecco, lo vedete, lo vedete? sta qua sopra, mo se è shiftà, eccoli guardateli come assaltano al mio prezioso castello ma noi mo li freghiamo anche se George mi ha portato oltre i denti a gentile da parte sua ma noi mo li freghiamo, mo ci mettiamo lo schifo ah, forse andavano fatte direttamente con lo schifo porca miseria no, c'ho la carota d'oro e poi lo schifo ok, vai, metti la carota d'oro porca miseria, mo mi finisce pure la blaze powder la dobbiamo andare a riprendercelo giù perchè voglio fare pure le pozioni di velocità e mi servirebbe pure della glowstone così le facciamo potenziate no? ecco, ma noi mettiamo a favore questa intanto ce ne andiamo sotto così depositiamo pure le cose dall'inventario andiamo di qua eh, guardali, guardali, guardali guarda il griffing, guarda il griffing ma guarda, ma mi hanno messo, mi hanno fatto salire i salmoni mi state a far scappare i salmoni maledetti porca miseria e va bene, va bene vogliono la guerra che guerra sia mettiamo un attimo al sicuro queste ricchezze qua a parte l'arco, l'arco ci vuole potente e il pollo mi serve prendiamo un po' di glowstone che sta qua no, prendiamo una glowstone e eh, una redstone perchè? perchè le pozioni di velocità le vogliamo che durano veloci e le pozioni sì le pozioni di invisibilità le vogliamo che durano tanto pensavo di staffa un po' un errore mentale ma comunque ci tornano le cose ecco qua, invisibilità queste ci dobbiamo mettere no, dove sta la redstone? la redstone che le fa dura tanto porca miseria non ho preso la blaze so proprio un fesso so proprio un fesso vabbè, faremo senza speed faremo senza speed ok, nutriamoci niente armatura mi raccomando queste cose mettiamo l'arco al primo posto uguali questo è il è il tridente di George noi ci mettiamo qua ci allontaniamo un po' saltando in sicurezza mi raccomando beviamo la spozza e volate adesso siamo invisibili ora noi facciamo una mossa ninja guarda, li sentite li sentite come stanno a tirare cose eccoli avriamo qua e corriamo via nei boschi nei boschi e loro ma non sanno che io comunque sono invisibile qua, guarda sta George a tirare altri denti a matti nel mio muro cioè stanno a tirare altri denti e loro stanno qua dietro ma vi pare una cosa da fare è sconcertante è sconcertante eccolo sta qua dietro guardali come si divertono guardali guardali ma li faccio vedere io come eh 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 dove stanno eccoli eccoli stanno a scappare cioè penso stiano a tornare a casa loro forse però l'arco che c'ho è troppo potente perché c'ha fiamma power 8000 eh no forse no mi sento gentile dai andiamola a toglie ne prendiamo uno normale e ci prendiamo uno stack di frecce così almeno sono sicuro di non ammazzarli dove ce le ho le frecce eccole qua tutte quante poi di qua ce le ho un altro archetto no se no ce le ho qui tra le zuzzerie ma si dai prendiamo sto power 3 sto unbreaking no dai no due unbreaking no due power 3 li mescoliamo qua alla grindstone così perdono l'enchant e ci facciamo un archetto semi buono no ricordiamoci invisibilità togliamo la maggior parte delle cose dall'inventario e andiamo a punire i malfattori che mi hanno allagato mezza casa andiamoli a punirli andiamo a fare la guerra ai carissimi matti e george che poi comunque ci sta anche toby nel server no quindi magari se io ci tiro le frecce aspetta fatemi riattivare la chat che ce l'ho nascosta così non dicono le zuzzerie eccoli stanno qua ovviamente non pensano a niente si continuano a tirare frecce e tutto che carini che so come si divertono come si divertono come si divertono giorgio giorgio via della freccia giorgio com'è la freccia giorgio te la sei gustata eh orca miseria giorgio c'ha uno sguardo fugace che è un ninja maledetto giorgio c'ha un occhio missilistico queste cose no non sta bene sta andando a tirare il tridente col tridente a una mucca ma ma ti pare il caso giorgio ti pare il caso ti pare una cosa da fama l'educato matti stalla fermo è una bella freccia se la becca andando ha fatto pure il ding eh matti ti è piaciuta la freccia eh però è strano non scrivono niente di solito giorgio quando lo vado a frecciare di nascosto inizia a spammare come un diavolo inizia a dire no mai fatto questo mai fatto quest'altro è colpa tua è colpa di questo eh matti orca miseria per poco per poco l'abbiamo lisciato dove sta quell'altro fesso di giorgio ma dove tirano frecce in cielo qua sti vandali ah mo stai in acqua eh no ma perchè va a casa di stregatto ti è peccati sta freccia tu ti è stregatto mo se tutto va bene si fanno la guerra tra di loro eh no non sospettano di niente non sospettano di niente non sospettano di nulla ma perchè dove sta il nostro giorgione eh la sta toby la sta toby toby mi dispiace ma pure tu sarai vittima tuk porca miseria ho lisciato pure lui eh toby mo stai troppo vicino mo non ti liscio sono un ninja mo si chiederà chi l'ha stato a colpì e se mi chiedono qualcosa io dirò che probabilmente sono stati Giorgio e Matti che stanno a tirafreccia da prima che si stanno a dirti quando ci ficchiamo dietro l'albero a nutrirci no niente non scrive nessuno si sono zitti tutti qua ma io l'ho reattivata la chat si boh e perchè mai sono tutti così silenziosi stasera eh toby perchè sei silenzioso no toby no toby te possi una maccata toby te possi una maccata levate levate tu sta ok no non ci sta eh guarda è già andato tie via questa freccia dalla distanza tie e tie toby mo li vede le frecce che arrivano ma non sa da parte di chi arrivano invece è da parte del metal mavio ninja che sta nascosto oh però vedi di notte non bassano tutti quei motorini orca miseria eh t'avevo chiappato sa toby mi dispiace matti se n'è andato nemmeno ha detto ciao eh toby fatti chiappò tie vabbè va so proprio scarso cioè è partita da una guerra tra george e e e alex aspetta perchè alex e matti me la sto a prendere sto proprio toby e non lo sto a chiappare con una freccia ma che davvero ma che è fortunato o so io che sto scarso l'arciera invisibile è scarso porca miseria porca miseria porca miseria scappa in mezzo cactus corri 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 sott'acqua eh toby eeeh toby toby eeeh corri 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 sott'acqua ok acqua stanno le cose no le possino ammaccate le cose che tirano sotto le trappole subacque questo è stregatto maledetto pure a lui toby non la vuoi una freccia omaggio nei cactus porca miseria ma sono proprio scarso comunque tiè dritto nei cactus no 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 qui non c'è nessuno caro toby porca miseria 30 secondi porca miseria mi devo beve un'altra pozza corri 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 dove sta toby ok sto a distanza di bevimento ok 7 minuti e 50 secondi anche se dubito che starò altri 7 minuti e tirare freccia a toby poff poff ma fortuna è che toby è molto vivi e lascia vivere cioè ti vede da invisibile si fa gli affari suoi non dice niente comunque no e io comunque non scrivo niente perchè io non ne so nulla di questa situazione io magari posso star giù a minare te posso in ammaccate quanto sei fortunello tiè porca però mo ha visto giorgio giorgio sta a casa sua l'ha visto quindi mo l'unico sospettato sono io perchè matti è uscito porca mi sei matti capro ispiatorio è proprio fake andiamo un po' a tempiccio a casa di giorgio magari vediamo un po' do sta quel birbante toby intanto toby comunque fa due passi sparisce giorgio che che si mette dentro la casa inizia a saltare nel culeto beccato sano sano ma non è che mi hanno tipo bloccato a me solo dalla chat e tipo loro si scrivono ma a me non arriva niente oh oh sanno che sto per fare sta cosa e quindi se ne fregano ma non direi giorgio stiamo soli e te minacciami giorgio si giorgio giorgio vai di là ah giorgio ci sta una cosa che gli da fastidio è quando gli si aprono le gabbie qua che si fanno scappare gli animali che comunque non c'era più perché giorgio li ho fatti scappare ah ma va il mob spawner ah la mia preda preferita giorgio è il mob spawner freccia in discesa cecchino cecchipavone porca miseria eccolo è arrivato col tridente è arrivato col tridente però non è salito quello è il suono che fa il tridente quando lo lancia eccolo 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 corri 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 metal corri metal mafia dietro l'albero dietro l'albero e ora si era fermato a scrive qualcosa 4 minuti e 50 Dai Giorgio chi è che ti dà fastidio? Sta a temporeggiare perché vuole che io esca Vuole che io esca allo scoperto ma Il nostro Metal Mafia non è fesso Forse un po' ma non troppo Eh perché io non mi sposto di qua caro The Bad George Eh no? Tu non puoi niente contro di me Vediamo che F5 tu sta Ok Sta riscendo sotto E noi lo riseguiamo e lo rifrecciamo Tieni Giorgio Ha ritirato il coso Eccolo me lo sta bene e prende E noi ce ne andiamo di qua F5 di nuovo Porca miseria Vai Giorgio Vieni vieni No Se ti prendo Emo a chi A chi? A chi? Eh a chi? Tobi Ah mi stavano Prima mi stavano a scrivere Di venire a vedere loro Enchant Sul loro tridente Tu Punti interrogativi Mi fa ride Mi fa ride perché si censura pure da solo Quando fa le citazioni Oddio Ma Quanto ma due minuti e cinque Dai facciamo questi ultimi due minuti Tiro un altro paio di frecce E me ne ho andato perché qua sotto è proprio Sto tunnel l'ho fatto io Un'altra volta gli ho tirato le frecce Per nascondermi Bene bene E ne ho fatto pure Eeeh Giorgione No Le scale Le scale Porca miseria Le scale No Maledetto Giorgio Entro qua Entro qua Ninja l'uscita Ah Ah maledetto No Vai vattene a riprendere il tridente Va Ah Aia No Giorgio stavolta ha avuto la meglio su di noi Per una volta Maledetto Per una volta Giorgio Ha vinto Porca miseria Non sono capace nemmeno a fargli scherzi Boh C'era il prossimo episodio Questa è stata un episodio molto silenzioso Mi raccomando Me lo sto registrando solo perché domani torno a casa E se no non vi posso carica niente Quindi Ci vediamo Ciao